Se non ci sono altre cose direi che possiamo salutarci qui e ringrazio tutti per la partecipazione e se qualcuno vuole sottolineare sono qui a disposizione. Grazie e buonasera a tutti. Grazie Daniele, grazie Alessia e Michele per essere stati con noi questa sera. Se posso permettermi di dare un consiglio di lettura lo consiglio caldamente perché è un libro che a parte ho durato in poco tempo e come dicevo ad Alessia nei nostri messaggi privati c'è questa sorta di fastidio nel vedere certe cose, certi atteggiamenti che devi andare avanti per forza per capire se questa cosa poi a un certo punto finisce o continua perché a me ha dato questa sensazione qua, cioè dovevo sapere che quella situazione che è davvero intollerabile nel 2021, comunque è molto attuale il libro quindi è diventato nei giorni nostri e bisognava che finisse in qualche modo, che Irene riuscisse vincitrice l'eroina proprio del romanzo. Io auspico in realtà anch'io un continuo proseguo della storia, ho già la mia idea ma me la tengo per me, però secondo me anche se si conclude in un certo modo ma potrebbe benissimo stimolare nuovi racconti, una nuova storia, un nuovo intreccio, Irene diventare la protagonista di una serie di libri. Non so, non abbiamo fatto una domanda sui progetti futuri, forse volete dirci se avete già qualcosa che vuole in pentola, anche se non strettamente collegato alla storia di Irene. Sì, ovviamente la scrittura è una passione che ci portiamo dentro da anni e in cui continuiamo ad impegnarci. Quindi sì, io sto scrivendo, attualmente stiamo scrivendo storie separate, quindi non più a quattro mani, però ovviamente niente ci impedisce di riprendere come sarà il momento. Io ho una storia nel cassetto a cui sto lavorando e anche Michele, ovviamente non vi svegliamo niente, però sì, stiamo continuando a scrivere e continueremo a fare. Bene, allora, io calupo per i vostri progetti futuri, anche se i singoli saranno bene accetti comunque. In realtà questo è il terzo libro scritto a quattro mani che presento qui al festival e la differenza clamorosa è che mentre nelle altre occasioni tutti si condivavano nel dire questa è la parte di cui mi sono occupata io, invece questa è la parte di cui si è occupato lui. e stavolta c'è stato tutto il contrario, questa commissione, infatti anch'io ho cercato di cercare tra le tracce delle pagine qualcosa che mi potesse suggerire. È stato scritto da Michele, è stato scritto da Alessia, ma non sono stata in grado di distinguerlo, quindi vi faccio i miei complimenti personali perché comunque per essere il primo romanzo direi che è un'opera, credo che l'editore, anche lui, lo pensi come me, assolutamente riuscita. Quindi grazie ancora per essere stati con noi, grazie al pubblico presente, grazie a chi ci sta seguendo in diretta all'interno del gruppo Mestre Mia. Vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì prossimo con Federica Nardon e il suo volevo solo andare a casa. Grazie a tutti e buona serata. Buona serata. Grazie a tutti.